Dignitari e notabili di tutte le chiese e conventi cristianicopti, convenuti ad Addis Abeba da ogni parte dell'impero, celebrano l'elezione della buna Abraham, già titolare della sede vescovile di Gondar, a Metropolita, che segna la soluzione di un secolare problema religioso ed esaudisce l'antichissimo voto delle popolazioni etiopiche. Sua eccellenza Graziani, ricevuti dignitari della chiesa etiopica in solenne udienza nel salone della residenza vicereale, alla presenza delle autorità civili, militari e politiche, approvava la nomina del nuovo abuna e dei vescovi eletti e gradiva l'indirizzo d'omaggio del clero, esaltante la via opera di civiltà e di progresso dell'Italia in Europa ed in Africa. Uscendo dal palazzo vicereale, il corpo ecclesiastico etiopico si recava in corteo alla chiesa di Santa Maria, dove si è svolta solennemente la consacrazione degli eletti fra il giubilo e le acclamazioni all'Italia di una moltitudine di fedeli.